Comunque il movimento fermi quando è su perchè Eh, la tortella mi voleva dover spelare tutto, io non ho capito Le ha passate le sopracciglia Voleva farmi il sopracciglia Nooo, tutto, i piedi, tutto Voleva spelare i piedi, dai No, no, no Vabbè dai, che tu Nooo Nooo Perché non volevo toglierli Ma no, non c'è, non veniva via Lei era insistente, capisci? Ma insistente? Ma no Vieni di qua che è il mio lato primo Senti, vede che bacia da quella Eh, esatto Bene Quindi tutti a Forlì Tutti a Forlì, dai venite a cena a Forlì Buono mastico C'è mai nessuno Se non trovo più il treno Ma tu puoi stare là vicino per Eh, lo sai così, faccio così Io giro per Forlì Poi vedo se c'è una luce forte Mi fermo Forlì, non lo sapete dove sta Dai Forlì Ma ti sembra che Giro per le fasi Ma un secondo Guarda quanto è così ricco Al Mufafè Ma no, ma sai che cosa Faremo una visita guidata Cominciamo a guadagnare In attesa del container Cominciamo a guadagnare lì No, no, io vengo a sentire che registro Alto che al Mufafè La notte lì registro Ho capito? Bene, allora va bene Vabbè, ma poi qualche serata Un pochettino più vicina a noi Eh, appunto Che non sia Napoli A Caserta A Salerno Aspetta, ascolta L'ampre Ma lui è campano Ma che c'è? Il 31 mi sa le Marche? Ah, beh, vicino Marche non è che proprio vicino Lo so, poi il 26 forse L'opzione era o Caserta o al Nord Al Nord Al Nord Dove? Tutto malissimo Tanto per sapere Ah, ma... Allora, va bene Andiamo